Davide Lugli, CEO e fondatore di Competitor. Competitor è una società innovativa che si occupa di fare rilevazioni di prezzi online. La parte iniziale di analisi è semantica e usa l'intelligenza artificiale per capire che cos'è il prodotto. In questo modo le aziende possono fare diverse attività con l'informazione che forniamo. Possono ottimizzare i prezzi e fare le strategie commerciali più efficaci. Possono ottimizzare le pubblicità, spingendo sui prodotti su cui hanno marginalità, migliori o vantaggi competitivi. iCuber Doc, giovedì alle 13, sull'app di TV e sui social.